vedrà queste candele sono un portento grazie arrivederci arrivederci buongiorno buongiorno prego in cosa possa essere utile vorrei chiedere una cosa mi dica siamo qui per questo è una cosa un po particolare non so come iniziare non abbia paura prego sono rimasta incinta senza avere un rapporto che cosa si è proprio così sono incinta ma non ho avuto alcun rapporto ma che stronzata non si è mai sentito una cosa del genere eccetto per la santa vergine si intende ma come non mi credo nemmeno lei senta ma chi crede di prendere in giro ma che presunzione piacere banca me lo sa sa quante cose vorrei così per miracolo e invece niente per piacere mi faccia lavorare ma madre come può parlarmi così ma che madre madre io sono la commessa mi costringono a portare questo solo per fargli pubblicità allora perché si impicciano i fatti degli altri ma perché hanno chiusi mani come ma vado a fare in culo se lo vado a prendere in culo lei no 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 Grazie a tutti.